buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 2 ottobre 2024 oggi non si festeggia un santo ma si festeggiano i santi angeli custodi ognuno di noi ha un angelo custode che ci protegge ed ora vediamo le previsioni del tempo passando attraverso la grafica regionale e vediamo come le previsioni del tempo siano alquanto altalenanti tra nubi e sole in un passaggio un po irregolare ma in prevalenza sarà un tempo asciutto fino a sera fino a sera poi peggiora peggiora a seguire abbiamo anche il vento un vento abbastanza impegnativo un vento che disturba perché il garbino è un vento caldo ma quando soffia soffia forte il clima a tratti sarà dunque caldo le temperature sono ancora abbastanza alte 25 gradi la massima 18 la minima sulle coste i venti spireranno da sud est nell'entroterra da sud ovest da sud ovest il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 7 05 e tramonterà alle 18 e 48 queste le previsioni del tempo quindi con questa immagine della giornata vediamo cosa dicono i giornali oggi l'apertura sia del resto del carlino che del corriere adriatico è dedicata all'ultima seduta del consiglio comunale una lunga seduta del consiglio di fano che è stata dedicata in maniera prevalenza e la discussione tra maggioranza e opposizione che ha prevalso è stata quella sulle linee programmatiche della giunta e sul piano dei lavori pubblici per il prossimo triennio metà dei soldi dell'interquartieri da convogliare sulla federiciana ebbene il corriere adriatico preferisce accentrare la sua attenzione come titolo perché poi tutti gli altri casi sono ugualmente esposti nell'articolo sulla federiciana sul finanziamento della federiciana sappiamo che è uno degli investimenti più importanti che l'amministrazione comunale di fano intende attuare nel territorio si parla di 10 milioni di euro a disposizione sono poco più di 2 milioni che sono arrivati con il pnr ma è un intervento che poi è a scadenza e quindi al più presto bisogna trovare gli altri soldi ebbene quello che intende l'amministrazione comunale fare è quello di cercare di dirottare quei 20 milioni parte di quei 20 milioni che erano stati indirizzati per realizzare la conclusione la fine dell'interquartieri verso Gimarra almeno lì di poterli riavere dal ministero per utilizzarli in parte coprire le spese per il progetto cucinella della federiciana della biblioteca federiciana e la richiesta della giunta a serfilippi al vice premier salvini imbarazzante la gestione dei lavori ereditata è il commento un po generale della giunta ma vediamo anche il titolo che appare sul resto del carlino sulla medesima notizia campi incolti e progetti sbagliati ecco l'eredità dei cantieri beffa ebbene le immagini pubblicate dal resto del carlino invece della biblioteca federiciana si riferiscono al parco dell'aeroporto parco che la giunta ha definito in realtà campo perché del parco c'è poco o nulla c'è semplicemente un piccolo parchetto giochi e una linea che dovrebbe essere la pista ciclabile di tutto il resto di tutto quel bel progetto che era stato lanciato dal concorso di idee ebbene non c'è poco c'è poco o nulla praticamente nulla e quindi si lancia l'operazione trasparenza da parte del sindaco serfilippi e dall'assessore ai lavori pubblici e gianluca ilari rimetteremo mano su tutto e vedremo quali sono i punti essenziali punti più importanti nei quali l'attuale amministrazione comunale dovrà metterci altri soldi per completare i lavori oltre alla federiciana si parla appunto del campo di aviazione qui appunto non credo che si faccia altre cose e probabilmente il progetto del parco del campo il parco urbano il parco del campo dagli azioni verrà accantonato verranno ultimate le operazioni in atto la pista ciclabile anche il pum track che verrà utilizzato verranno utilizzati soli fondi a disposizione quindi non verranno aumentati e quindi praticamente verrà completato quello che è già stato iniziato ma non verrà fatto altro poi vediamo le altre iniziative ci sono altre risorse da investire nella Zengarini nel complesso della pista ad atletica Zengarini ebbene qua ci sono due importanti cluster ovvero uno che riguarda la tribuna e la pista ad atletica e l'altro che guarda invece l'impianto indoor da una parte mancano gli infissi manca l'impianto di riscaldamento mancano altre cose dall'altra ugualmente ci sono delle carenze l'impianto fognario insomma occorrono altri investimenti e anche qui bisognerà aggiungere soldi altri soldi verranno aggiunti per il waterfront di Sassonia in fondo a Viale Battisti e poi 100.000 euro per il completamento dell'area ex Agip in attesa anche di accettare la fattibilità della posizione della fontana che doveva essere spostata ma credo che non lo sarà, sarà messa una copia eventualmente da via Nazario Sauro dove era stata poi spostata dalla precedente giunta la fontana era quella che era stata realizzata dall'originario progetto della Coridoni e quindi non si sa se verrà riposizionata o meno e poi ci sono 400.000 euro da rimettere in gioco per gli espropri della ciclovia del Metà insomma sono diversi i progetti che devono essere continuati e rifinanziati di nuovo dall'attuale giunta e poi c'è stato un dissenso un dissenso nel corso della seduta del Consiglio Comunale dell'altra sera da parte di due consiglieri di Fratelli d'Italia si tratta di Montalbini e di Del Vecchio i quali al momento del voto delle linee programmate della giunta sono usciti dall'aula perché? perché a maggioranza non ha votato un loro emendamento un loro emendamento che intendeva istituire il fattore famiglia cos'è il fattore famiglia? è un metodo di calcolo per applicare gli sgravi fiscali nei confronti delle famiglie più povere ebbene si calcola il numero dei figli la presenza di persone disabili all'interno del nucleo familiare le condizioni economiche ebbene questo metodo non è stato accolto si sarebbe detto che insomma non ci sarebbe stata la copertura finanziaria ma tutto questo è ancora da vedere e allora i due consiglieri sono dissociati e non hanno votato e parliamo ancora di dengue parliamo ancora di dengue perché il caso comincia a destare delle polemiche dengue la diffusione del virus intitola il Corriere Adriatico dovrebbe essere in calo ma però c'è qualcuno come per esempio il virologo Burioni che dice che la situazione è fuori controllo l'ultimo caso comunque ha detto Augusto Liverani che è il responsabile del centro di prevenzione del dipartimento di prevenzione dell'ast numero uno di Fano Pesaro Urbino dice che il fenomeno è in calo perché c'è una specie di stasi l'ultimo caso risale una settimana fa e da allora non si sono più verificati diciamo meglio non sono più accertati dei casi infetti il direttore della prevenzione Liverani rassicura sul focolaio nelle farmacie comunali intanto è arrivato ieri pomeriggio il kit anti zanzare vediamo anche come la notizia viene riportata dal Corriere Adriatico l'abbiamo sulle prime pagine ecco qua il titolo dengue infezioni fuori controllo ebbene il resto del Carlino riporta le dichiarazioni di Burioni Fano diventa un caso nazionale da Bassetti a Burioni i massimi esperti in materia sanitaria lanciano l'allarme 102 contagi potrebbero essere la punta di un iceberg perché sono quelli che sono venuti alla luce ma sotto ci potrebbero essere tante persone che sono infette forse non lo sanno perché sono asintomatiche forse perché ancora il virus è in incubazione l'incubazione dura fino a 14 giorni quindi ci vuole tempo perché poi i sintomi si manifestino ebbene il virus può dilagare l'unico metodo non è quello di dare un modo per evitare il contagio non esiste occorre semplicemente combattere la diffusione della zanzara tigre li verani dell'aste no l'incidenza è in calo afferma appunto il dottore dengue a Fano per il virologo Roberto Burioni la situazione è fuori controllo per l'infettivologo Matteo Bassetti serve un lavoro di sorveglianza per evitare che il focollaio si allarghi e allora che cosa bisogna fare bisogna cominciare per tempo le disinfestazioni non bisogna tardare bisogna cominciarle all'inizio della primavera magari ripeterle costantemente e soprattutto combattere la diffusione della zanzara tigre che è il velicolo dell'infezione ebbene non lasciarsi pungere dalla zanzara magari coprirsi con un repellente oppure cercare di indossare vestiti chiari in modo da non attirare appunto le zanzara e soprattutto non frequentare campi prati, giardini dove magari c'è un po' d'erba incolta dove si annidono appunto le zanzara abbiamo anche una testimonianza sul resto del carlino di una signora che ha avuto la dengue la malattia si tratta di Miriam Rovinelli Miriam Rovinelli è una signora che ha un negozio di abbigliamento in via Fanella e che per dieci giorni ha combattuto contro la dengue ora sta bene ma avere la meglio sul virus non è stato facile ebbene la signora racconta che ha avuto la febbre intorno ai 38 38 gradi e mezzo per due o tre giorni e poi ha avuto anche dolori un senso di nausea completa inappetenza bruciore agli occhi insomma per una decina di giorni non è stata affatto bene adesso invece comincia a riprendersi per fortuna non ci sono casi estremamente gravi di questa malattia insomma però la lotta continua continuiamo a parlare a vedere le notizie sul Corriere Adriatico e parliamo di lupi parliamo di lupi un altro lupo stato travolto e ucciso in strada ebbene la presenza di lupi nel nucleo urbano nei pressi almeno del nucleo urbano è sempre più frequente recentemente un lupo in dispersione era un lupo solitario è stato ucciso perché investito da un veicolo nella serata di giovedì scorso a Fano nella zona dell'aeroporto si tratta di un maschio di circa tre chili e mezzo in buone condizioni fisiche la carcassa era stata recuperata da un veterinario e poi anche dal personale del CRAS il CRAS è il centro per il recupero di animali selvatici esami e accertamenti successivi hanno escluso che si trattasse del lupo detto di Montegiove come invece era stato ipotizzato il giorno seguente il giorno seguente poi è stato investito e ucciso un altro lupo maschio nella zona di Cerreto di Pesaro tra Novilara Candelara e Santa Maria dell'Arzilla era circa un anno più giovane dell'esemplare travolta Fano a sua volta piuttosto robusto perché i lupi sono sempre più vicini alla costa perché l'itinerario dall'entroterra la costa costituisce il cammino che i lupi fanno per andare verso l'Emilia Romagna sono percorsi abituali per quanto riguarda i lupi da quando la presenza dei lupi è stata numerosa nel nostro territorio il lupo generalmente ha paura dell'uomo però non è il caso né di dargli da mangiare né di avvicinarlo per non andare a cercare spicci in modo da tenerli a distanza per non correre diciamo così molti molti rischi allora procediamo e parliamo di carnevale parliamo di carnevale ieri c'è stata una conferenza stampa nella sala della concordia del comune di Fano dove si è annunciato la trasferta del carnevale di Fano negli Stati Uniti il 14 ottobre si svolgerà a New York il Columbus Day il giorno dedicato a Cristoforo Colombo è il giorno dell'italianità americana ebbene sarà un giorno in cui il carnevale di Fano verrà promosso ci sarà la maschera del Voulon insieme alle altre maschere che costituiscono un po' l'apparato delle maschere carnevalesche italiane e il Voulon al Columbus Day esportiamo il carnevale ci sarà una delegazione fanese dove non mancherà appunto il Voulon con Simone Diotalevi lo vediamo qui il primo della foto insieme alla Presidente e gli altri rappresentanti abbiamo Santorelli Corradi che è un po' rappresentante della delegazione abbiamo la Gian Marioli che è la segretaria di questa nuova istituzione la Presidente Bernardini dell'ente carnevalesca e Simone Diotalevi e il Voulon fanese a New York per partecipare alla parata dell'ottantesimo Columbus Day una parata gigantesca una parata carnevalesca anche quella dobbiamo dire perché poi ci saranno anche qui vestiti in costume carri è una festa dell'italianità nella grande mela e allora andiamo a Pergola a Pergola si riparla ancora della piazza che era stata pedonalizzata e ora invece viene riaperta al traffico la piazza riaperta al traffico restituita alla comunità c'è stata una repulsione della riapertura al traffico altre volte quando si pedonalizza si protesta perché si pedonalizza invece questa volta si protesta perché rientrano le macchine in piazza parte a Pergola una petizione online con moduli cartacei contro l'ordinanza che riapre al transito delle automobili andiamo a Senigallia a Senigallia si vuol fare un giro di vite contro la commissione del camminamento pedonale con quello ciclabile stop ai runner i runner sono quelli che corrono che corrono a piedi sulla pista ciclabile è un giro di vite ora rischiano veramente la multa assessore regine una questione di vigilanza ha detto devono essere perseguiti dalla polizia locale tempi duri dunque per coloro che praticano il footing nelle piste ciclabili potrebbero rischiare una multa se sorpresi a correre su questa zona che è riservata alle due ruote i podisti non sono gli unici però a farne uso in proprio lunedì in consiglio comunale è stato affrontato il caos delle ciclabili utilizzati da molti in maniera impropria pedoni compresi quindi bisognerà insomma fare ordine intorno a questa cosa nella città di Fano sono molte i camminamenti protetti misti tra bici e camminamenti a piedi però non sempre le due cose si conciliano perché magari uno in bicicletta va un pochino più forte quello che va a piedi un po' magari va zig zag e possono accadere anche degli incidenti passiamo a Pesaro l'apertura è dedicata al cantiere dell'ospedale questo cantiere che dovrebbe iniziare e speriamo che inizi al più presto si attende come ultimo atto il sì del ministero ma va sciolto anche il nodo tar c'è stata una botta e risposta in regione sull'avvio dei lavori ieri c'è stato un nuovo consiglio regionale per il nuovo polo di muraglia Balbelli il assessore all'infrastruttura dice aspettiamo gli esiti poi partiamo i democrat l'opposizione no siete in panne l'opposizione in questo caso era rappresentata da Renato Claudio Minardi e da Michela Vitri i due che insomma sono occupati di sanità nella RSA potenziata la videosorveglianza Baldelli ha annunciato investimenti anche per la casa di riposo di Pesaro Gallantara in arrivo alle telecamere dunque di videosorveglianza nelle RSA a strutture sanitarie di assistenza in provincia di Pesaro saranno 16 gli interventi e lo comunica appunto Baldelli dovrebbe essere una operazione importante per la sicurezza degli ospiti degli anziani delle persone con disabilità e degli operatori che lavorano in queste strutture assistenziali Centro Benelli Centro Benelli un centro che attualmente è in fase di lavori perché ci sono alcune strutture che devono essere messe in sicurezza sul posto sono intervenuti i tecnici del comune insieme al sindaco Biancani e all'assessore della Dora stabiliti i lavori più urgenti si tratta di un provvedimento che si è reso necessario per riparare i danni riscontrati su una trava in legno lamellare la vediamo qui in questa fotografia in legno lamellare sorretta dalla colonna centrale è una struttura importante della copertura intanto polemiche tra il Partito Democratico e Fratelli d'Italia per quanto riguarda la situazione politica civici traditi dalla destra raccontate un'altra realtà ha detto Bagliocchi rispondendo alla segretaria provinciale del Partito Democratico Rosetta Fulvi vediamo anche un fatto di cronaca sale sull'auto di un 95enne poi gli offre il sesso o lo rapina l'incontro è avvenuto in stazione un anziano ha fatto salire una nigeriana una donna giovane sulla sua auto quasi lui dice per cortesia per accompagnarla perché aveva detto che aveva perso l'autobus si trovava in difficoltà poi è andato in zona a porto ora qui le due versioni divergono la anziana dice che la nigeriana dice che l'anziano gli avrebbe chiesto di avere delle prestazioni sessuali invece l'anziano dice che la cosa è provenuta dalla donna e la donna chi sarebbe offerta di dargli delle prestazioni sessuali fatto sta che insomma poi è stata rapinato lui dai soldi che aveva nel portafoglio gli aveva dato 20 euro per sbrigarsela ma poi la donna gli aveva preso tutti i soldi ebbene è stata condannata a due anni e sei mesi 95 anni ebbene insomma ancora delle velleità vediamo anche la pagina di Urbino si parla di due iniziative che avranno luogo nel fine settimana si tratta del festival Biosalus e del Street and Sport al centro il benessere personale gli assessori Ottaviani Guazzolini e Vetri presentano le due manifestazioni di sabato e domenica altre e altri eventi per attirare interesse sulla città Ducale dove si sta avendo ancora i riscontri della bella mostra che c'è stata su un artista importante di Urbino dopo Raffaello sapete benissimo di cui parlo allora vediamo ora ancora qualche notizia sul resto del Carlino dove sulla pagina di Fano oltre al problema del dei lavori pubblici del Carnevale che se ne andrà al Columbus Day vediamo la pagina di Urbino internet telefoni fuori uso cittadini infuriati ebbene questa mancanza di connessione sta così provocando anche dei danni economici alle imprese una centralina è scollegata il disagio enorme da due settimane si evidenzia questo disservizio poi vediamo anche quello che sta accadendo per la preparazione del Biosalus il Festival del Benessere l'edizione 2024 è internazionale un'ultima notizia che riguarda Pesaro e l'addio a Glauco Mauri le sue ceneri a Pesaro sarebbe un onore avere le sue spoglie nel cimitero monumentale di Pesaro dove riposano anche altri grandi personaggi della città rossignana le sue ceneri a Pesaro sarebbe un onore la nipote dice non si sa ancora è tutto da decidere l'aspicio comunque è stato espresso dal sindaco Biancani e dal vice sindaco Vimini e questo per il momento è tutto abbiamo detto le notizie più importanti quindi possiamo chiudere i giornali e darvi appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto